Genta Si Montatti con blu Io pump e famos Tutti i miei ragazzi non mi stanno facendo loro gigare C'è un big Mi sento buildare vicino a me mi sa Tu non hai nulla? No Hai shield per me? No era solo un big Nedano Andate alla casa di sinistra Uno Lai sono dei mini guarda A nord Prova andarla a prendere Neidano Apro la cassa Shieldini qua Le hai presi tu? Ma non ho presi io? Ok si No l'ho presi anch'io Stanno facendo Dopo di ci hanno avuto shield al pescatino Fino a marzo Guarda ora Sono belli Spistati sono in mezzo Ok Ho tu la trampina Qua se c'è tu la trampina Non mi butto la canna io Tanto qua non c'è da pescare C'è lì da pescare Ok Come stai il materiale? Tutto full a parte il ferro che sono 80 E che il ferro qua non ce l'ha C'erano due macchine ma Io andare in safe Mi chiuderei a qualche parte Quelli sono mini No è l'arpina Cioè vedi il fatto è che siamo 36 C'è gente da me Martino Io ne vedo uno O l'altro sta più avanti Sono due E vuoi fartelo? Sì che voglio farmeli Ok Io l'altro l'altro busci L'altro a sinistra L'ha fatto cadere? Ho visto Ho fatto il pilo al mio Mi stilo uno scendino Ok sono full Scendo data Bianco Bianco è morto Ne ho due In una safe così Siamo 33 Cioè noi letteralmente dovremmo portarci i game in endgame Abbiamo ogni singola cosa Cioè anche Anche che ti fai due kill E basta Comunque ci sono 15 di vittoria Cioè proprio Tocca giocarci la madre Ma ci serve la win Per recuperare tutti i game Che abbiamo fagappato Obbligatoriamente Stavano quei 15 punti Quindi quello è l'obiettivo nostro Di questo game Obbligatoriamente Che dici? P90 per due flopper O no? Che armi c'hai? Scusa Che lottata c'hai? Tattico blu R blu P90 P90 era giusto per entrare nei box Solo per quello Io non lo uso Quindi posso datti una mia Ok Vado col fino avanti Cioè se vuoi entrare nei box Fado di P90 Tutta la vita Quanto siamo distanti? Ok Non sei granate Io ricordiamocelo Ok Se vediamo qualcuno ho boxato Perché qualcuno che fai Da come la vedi Me ne dai tra Sì assolutamente Dobbiamo fare tre la testa Là non posso non scamparne Prendo sta cassa C'è uno là? Quante volte mi esce qualcosa? Ok arrivo Quanti ragazzi hai? Niente Ci sono tre mini Quali vuoi prendere? Martina c'è uno che No non posso C'è uno sei Ok va bene Fai diamo con intelligenza Non voglio perdere il game Dobbiamo winnarci Adesso ho l'RPG Ho buttato il P90 Eccoli lì Forse lo hito Forse lo hito Forse lo hito No Sei murato Eh sì Vabbè Tra le strutture Andiamo Hai uno scelto Ne matti? No vero No Riva pesce No 80 blu Carico l'RPG 34 blu Mi serve Mi serve un flopper E' bianco Morto uno Tieni flopper Guarda me Mi è dura più 60 blu Qua sotto a me 68 Sotto Al maschio Sono nel posto boxe Ma ti uno sta sentendo Guardate Guardate Ho portato l'amico Non lo so Ok Carlo prendo Ma hai mazza Aspetta ripeto qua Allora Ho visto 720 Di mattone Alla partera Questa è roba mia Aspetta Vediamo che c'è qua Ok C'ho full E full Di nuovo Io pure E qua Stanno pushando Credo Sì Ho sentito Dei cose strane Io no Però mi fido Se hai sentito C'è la vita Che ci sia qualcuno E' meglio Senta dietro Prove l'acqua Io ho sentito Sì infatti Aspetta Qualcuno ha sparato lì Quindi abbiamo Una su destra Sicuro Di fronte a noi Sono due Ma visto Una è nel bush Ma visto Aspetta 33 Sì Di piccola Sono arricchinata Hai scelta Sì sì Ma full shield Ok Ma io se sto ferma Non mi cerchino Se salto Capirai Fermati Ho uno clot Cosa Hai Flopper Qualche flopperai Se vuoi Ti ho un flopperino Sì Senza parlare Tieni Siamo Ma quelli Mi hanno smagherato Sì sì Loro Dopo che ci notti Manco ci pusci Che cazzo vuoi Ok davanti a te Marti 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 Veloce 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 Tieni granate Vai 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 È stato Noccato Vai È uno No Sono due Aspetta Vado direi PG No Dietogli uno Credo L'abbia È stato Serio Non lo so Non so se Ti prendo il tempo No Ok Non gliel'abbiamo Andata Non l'ha È stato Dov'è Sta busciando Siamo Unitissimi Beh Vigliamo in sé Fermiamo 330 di metallo Ma è qui Sì è lì Ah sono in due What È un altro dì Guardi Ok 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 Di autorità Ci ha aperto Non mette il muro Non so perché Vabbè Andiamo a Zeymati Ora 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 C'è quello di Nike Di prima Che ho ucciso Le granate 25 Devono ruotare questi Lo so Noi li diamo Una merda Io ho mille colpi Medi Spamma come un assassino Lo so Lo vedo Tenta Blu 29 Solo Poli safe Poli vai Siamo in grave Blu Entrata 32 Entrata Guarda Shield bianco Vai 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 Marta mio Brava Una che ce la siamo persa Però vabbè A me non abbiamo persa una Sicuramente Dovemmo passare All tunnel 24 Blu 35 35 Ti sta guardando Andiamo 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 Ti pazzo dietro Mi ha il muro mi ha il muro hai razzi ok vai forse l'ha hito no niente fine razzi dietro di noi dietro di noi 35 è rotta shield bianchissimo aura no hanno stilato ok effetto dobbiamo stare vicini vicini safe ok sono indietro dobbiamo prenderli ma mi sa che li prendono mio persa la kill 8 flopper maz qua maz qua maz qua sono fulmazio sono fulmazza mi manca solo un po di vero andiamo hanno già live loro molto forse li faccio vedere sono sotto il mare sono nel mare il dato lei che possiamo andare fa sono in a dimartino in aic soccarati 90 ok anche non fa che nostro eccolo infatti sono sceso un po io le kill ci servono le kill letto 5 ok ultimo ultimo 1 v1 2 v1 ok ok ci serve vai e per questo che mi ci serviva non solo quella che ha fatto quattro diecchila questa questa ha salvato tutti i game che abbiamo fatto niente